A tutta l'unità, probabile gara clandestina. Sono appena passati davanti all'ospedale in due che si superavano, non hanno rispettato nemmeno i rossi, vanno verso il nord città. Una Lamborghini performante nera e una Mercedes bianca, mi pare una Mercedes con i bitcoin. Ok. Esercito, arriviamo all'ospedale. Le macchine hanno già proseguito verso il nord città o potrebbero anche essere andate verso la pontina. C'è un messaggio per noi, incidente. Vai, vai, mettimi le sirene, andiamo. Intanto chiamano, ammettete che lo chiamo. Siamo già qua. Sarci aiutare una polizia di stato, ci chiediamo una pattuglia per fare dei verbali a termini centro, piazza centrale. Da un momento non siamo disponibili. Siamo intervenendo. Eh, diciamo appunto. Ma qua? Sei cazzo. Vieni, ti sirene. Iniziamo. 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 L'ha già chiamata? L'ha già chiamata l'ambulanza? Ok ok Allora aspettiamo Passate sulla sinistra Ce la fate Ok Vada 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 Delta 2 ancora niente? Delta 2 è negativo Per adesso niente Va bene giriamo anche un po' la zona dell'officina Concessionario Io mi sto portando sempre a locali Sound muted Perfetto sto tornando Ecco qua Di nulla Perfetto Ora dobbiamo portare in ospedale Senza con Sentiamo la baralla Ragazzi Uddio Basta che non prendi sottimeggi Sì ma piano eh Ehi Vigili del fuoco Arrivederci Per favore Signore Il suo amico Per favore salite in ambulanza Vi portiamo in ospedale Tornare in costura Che c'è una cosa da fare Ok ok Qui spada 12 Siamo sopra la costura Stiamo starvolando la zona Agente Ragazzi grazie mille Adesso in arrivo Il procuratore giudice Appena telefonati Quindi massima Massimo allerta Reciuto Ci sono tre soggetti davanti alla porta della questura Signori voi che dovete fa Eh devo parlare con un agente Adesso la questura è chiuta Dobbiamo fare rapporto Su un collega vostro Dovete uscire cortesemente Da qui Dovete andare via tutti Buongiorno giudice La questura è chiuta Giudice Da quanto arriva il procuratore? Giudice Il giudice Ah Il procuratore Lui Procuratore Salve Tra quanto arriva il giudice? Eh Tra poco Perfetto Si metta la maschera? Assolutamente Allora Attendiamo subito Il giudice Ok Ragazzi Quest'ora blindata Comunico c'è un grosso movimento di vetture Un grosso movimento di vetture Copiato ragazzi Noi intanto abbiamo blindato la questura Tutte le porte sono chiuse Se è possibile mettete degli uomini sul tetto Della questura Anche sopra davanti alla questura Va bene adesso faccio andare qualcuno Ragazzi tutti quelli disponibili Che non c'entrano nulla con l'interrogatorio Vadano sul tetto della questura a fare perimetro Va bene dai Signore faccia un saltino Faccia un saltino Eccolo qua il giudice C'è il giudice C'è il giudice Collega sul tetto Vedete sotto di noi c'è un veicolo Se riesce a prendere la targa Perché ha parcheggiato lì E penso si sono usciti a piedi E' troppo lontano Attenzione a tutti quelli della politica Qualcuno di voi risponde in radio A tutte le comunicazioni che arrivano a me C'è quel cibo che sta passando avanti alla questura Che sta girando 5-6 volte Che gira per la questura Occhio Ho ricevuto Scusi Qui Delta 1 Spieghi la radio Il soft grigio sta girando troppe volte qui intorno Allora Sì 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 Sì